Grazie a tutti. Grazie a tutti. La mattina nel luogo in cui la giunta comunale e la maggioranza avevano deciso di allestire un presidio per la quattro corsie c'è stato un sit-in del centrodestra o meglio un tentativo considerando che sul posto è arrivato anche il sindaco Mario Bruno che ha di fatto impedito che venissero posizionate alcune bandiere. Da lì la tensione è salita alle stelle con Bruno che ha gettato a terra una bandiera di Forza Italia che il consigliere comunale Nunzio Camerada stava posizionando ed è scaturito un duro faccia a faccia tra i due. Sentiamo però le parole di questa mattina con lo stesso Camerada con l'esponente del PISDATS Mario Conoci e Michele Paes della Lega. Siamo qui dopo il consiglio comunale delle nove che è andato deserto perché non c'era nessuno, il sindaco non ha più maggioranza, ha finito il suo mandato elettorale perché non ha più le condizioni di governare. Siamo arrivati qui per far vedere un'altra delle azioni propagandistiche del sindaco e della sua amministrazione per quanto riguarda la raccolta firme da quattro corsie. Non c'è nessuno, come non c'è più stato nessuno negli ultimi periodi, hanno fatto un teatrino qualche giorno, poi la protesta per la richiesta di un referendum inaudito, impossibile, è già finita. Il fatto sta che mentre eravamo qui, ci stavamo organizzando per la nostra manifestazione, casualmente è arrivato il sindaco che con un atto sprezzante nei confronti di Forza Italia, mentre stavo allestendo una bandiera, mettendo una nostra bandiera che sono i colori di Forza Italia, i colori del nostro partito, l'ha presa e l'ha letteralmente buttata per terra. È un'ulteriore prova di quello che è il rispetto del sindaco nei confronti dei partiti, l'ha dimostrato quel partito del popolo sardo, non può continuare a fare di Alghero quello che vuole, ha finito e glielo stiamo facendo capire in tutti i modi. È una persona veramente meschina, una persona che butta per terra una bandiera di partito, ci tengo a dirlo. Siamo qua nel presidio allestito dal sindaco Mario Bruno sulla Quattro Corsie per evidenziare che con la propaganda non si risolvono i problemi. La città purtroppo brucia con problemi giganteschi come quello della sanità, quello dei trasporti, dei collegamenti aerei, ma si preferisce imbastire delle sceneggiate solamente per fini elettorali e propagandistici. Noi abbiamo la certezza, l'assicurazione da parte di Matteo Salvini che la Quattro Corsie si farà, l'impegno della Lega per il proseguimento di questa importante opera e quindi non ci sono assolutamente problemi politici che derivano dal governo. C'è un problema invece di carattere tecnico che deriva dal piano paeseggistico regionale che impedisce la realizzazione di strade a Quattro Corsie nella fascia costiera e questo è l'unico impedimento che va rimosso dalla strada. L'impegno nostro è su questo punto, l'impegno della Lega c'è, è presente, Matteo Salvini si impegnerà per questa importante opera e siamo sicuri che la porteremo a casa. Oggi siamo venuti qua per manifestare sul luogo nel quale l'amministrazione ha raggiunto il massimo della propaganda, il massimo della propaganda sulle cose non fatte, infatti la Quattro Corsie è il simbolo dell'ospedale che non è stato fatto, del disastro del centro di residenza dei anziani, delle cartelle pazze che stanno arrivando agli algeresi, insomma di tutte le cose che questa amministrazione in quattro anni e mezzo non ha fatto e oggi la sorpresa che ci siamo trovati qua nel venire a fare una manifestazione libera è il sindaco che è venuto da solo e anche questo è un simbolo importante perché è il simbolo della solitudine di questo sindaco e dell'abbandono che ha avuto da tutti e il quale ha tentato di impedirci di fare questo incontro e questa manifestazione qui. Secondo me ha perso ormai il senso della democrazia e il senso anche del suo ruolo che è quello di garantire a tutti di poter esprimere le proprie idee e a maggior ragione ha dato forza a questo incontro qua di oggi, ripetiamo sul simbolo dell'inconcludenza di questa amministrazione. Sentiamo però anche le parole del sindaco Mario Bruno. Questa è la sede ufficiale del sindaco e della giunta, è un presidio permanente con delibera di giunta che è stata istituita nello scorso mese di novembre, subito dopo l'incontro a Roma. È una sede istituzionale, un presidio formale istituzionale, non ci sono come vedete bandiere di partito, non lo abbiamo consentito, è una battaglia di tutta la città, non è uno scherzo, non è una pagliacciata, ci stanno togliendo un diritto, una quattro corsie che si interrompe a 7 km dal gherro, deve essere la battaglia di tutta la città e le migliaia di firme che stanno arrivando dai cittadini lo confermano, per cui iniziare una campagna elettorale su queste basi, con queste pagliacciate non può essere consentito, ma gli algerizi se ne renderanno conto. Invece è il momento di unirci, è il momento di unirci perché la quattro corsie serve al territorio, serve allo sviluppo economico del territorio e al posto del centrodestra mi sarei messo qui a raccogliere le firme, non semplicemente a mettere delle bandiere che devo dire non servono. Credo non servono neanche a loro stessi, neanche a prendere un voto in più. Su quanto avvenuto stamattina interviene intanto anche il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde, dispiace apprendere che il sindaco del gherro mette in campo atteggiamenti violenti e antidemocratici contro le forze di opposizione, commenta l'ex primo cittadino Bruno, ha impedito alle forze politiche del centrodestra, sardista e civico di protestare presso il container che ad Olmedo dovrebbe servire per raccogliere le firme per il finto referendum, ma che invece è sempre desolatamente vuoto e inutilizzato. Il fatto che abbia strappato una bandiera di Forza Italia e l'abbia buttata per terra, minacciando esponenti politici dello stesso partito, la dice lunga sulla fase crepuscolare vissuta da questa amministrazione che calpesta anche i minimi diritti democratici dei suoi oppositori, ma ci lascia perplessi anche il fatto che stamattina ci sarebbe dovuta essere una seduta del Consiglio Comunale, ma il sindaco non si è presentato preferendo fiondarsi presso il presidio che oramai da dieci giorni è deserto. Siamo a nostro malgrado costretti ad assistere quotidianamente a tentativi del sindaco volti a sollevare cortine fumogene per nascondere straordinarie negligenze amministrative e il referendum farlocco sulla quattro corsie è solo uno degli ultimi atti di una lunga sequenza, ma gli algheresi hanno da tempo capito che il massimo rappresentante dell'amministrazione è totalmente inadeguato ad amministrare una città che in questi ultimi cinque anni ha preso una pericolosa deriva economica e sociale a causa degli errori dell'amministrazione regionale supportati dalla espressa connivenza del sindaco, chiude Tette. Parliamo ora di sanità. Ieri abbiamo detto della denuncia del Forza Isatette sull'azzeramento dei posti letto dell'unità o dell'operativa di Otorino. Intervengono anche Michele Paese e Giorgia Vaccaro, consigliere comunale e coordinatrice cittadina della Lega, per segnalare altre criticità. Il sindaco Mario Bruno intanto ha scritto all'assessore Arru per chiedere la sostituzione dei due paesi e altri che andranno in pensione. Una generale situazione di decadenza dell'intero comparto sanitario algherese la denuncia nei due leghi stimi Michele Paese e Giorgia Vaccaro nella lista delle criticità all'assenza di personale medico sanitario nei vari reparti dell'ospedale algherese che sta impedendo il regolare svolgimento dell'attività soprattutto chirurgica dove si registrano liste d'attesa fino a tre zeri e di svariati mesi senza contare la cronica insufficienza dei medici anestesisti che di fatto impedisce al nostro ospedale, seppur nelle difficoltà croniche note a tutti di esprimere tutte le potenzialità delle eccellenze che comunque vi lavorano e continuano ad impegnarsi. Paese e Vaccaro segnalano le problematiche anche del servizio territoriale la situazione più grave si registra nel servizio dei medici pediatri dove a fronte di due pensionamenti e uno prossimo a marzo neanche uno è stato rimpiazzato. Oltre 700 bambini del territorio vasto che si riferisce ad Alghero da Villanova a Olmedo per intenderci risulterebbero senza pediatra e pertanto senza assistenza sanitaria denunciano. Un fatto intollerabile che espone i nostri bimbi a condizioni di rischio sanitario e un intasamento del reparto di pediatria che in nessun caso può sostituirsi a tale funzione. Su quella che è stata definita emergenza pediatri soprattutto dal comitato spontaneo di genitori c'è da registrare la lettera inviata dal sindaco all'assessore regionale Arru sbaglia chi intende sostituire due pediatri che tra qualche giorno andranno in pensione con i medici di base. Farlo sarebbe semplicemente assurdo e inaccettabile e ora che l'assessorato regionale alla sanità intervenga con chiarezza e risolutezza assicurando quell'efficiente servizio rivolto alle famiglie algheresi con neonati fino ad oggi erogato con puntualità sul territorio. Non è pensabile risparmiare sulla salute dei cittadini figuriamoci su quella dei più piccoli afferma Mario Bruno che chiede di provvedere alla sostituzione anche provvisoria dei professionisti in procinto di chiude all'ambulatorio di Alghero scongiurando così gli inevitabili disservizi che andrebbero a verificarsi affidando pazienti pediatrici a medici generici. È semplicemente assurdo solo pensare di poter gestire con accuratezza i neonati insieme a pazienti geriatrici per questioni di spazi privacy e sensibilità prima ancora che per preparazione competenza e professionalità precise il sindaco. Rivendichiamo con forza un diritto se sarà necessario conclude faremo tutti i passi e le ulteriori pressioni a qualsiasi livello affinché si capisca l'esigenza di centinaia di famiglie nel vedere assicurata la giusta attenzione alle future generazioni di algheresi. Ha riaperto dalla serata di ieri il parcheggio interrato multipiano di piazza dei mercati. La chiusura si era resa necessaria al fine di conseguire appurate verifiche sull'impianto antincendio nelle pompe di sollevamento delle acque piovane nere e negli ascensori. Tutti adempimenti prescritti dalle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente fanno sapere dal comune. Lavori che proseguiranno nelle prossime settimane per tutto il periodo festivo. L'apertura dal pubblico del parcheggio multipiano rispetterà l'orario 8.22 con possibilità per tutti gli abbonati del servizio H24. Ci lasciamo, c'è la pubblicità tra poco. Ed ora parliamo di mescheumesse e degli appuntamenti del fine settimana. Intanto la tappa conclusiva di Girolio d'Italia con gli stand allestiti presso l'ex mercato civico ortofrutticolo con il coinvolgimento delle aziende e associazioni dei territori coinvolti. Ieri intanto in piazza Pinopierese nella Torre di San Giovanni è stata inaugurata per le dogliastra, promozione e valorizzazione dell'enogastronomia e della tipicità regionale come turismo esperienziale. Intanto oggi alle 18 presso la sala Sari del Licio Classico di via Carlo Alberto ci sarà la presentazione della mostra fotografica dal titolo La Rivolta di San Valentino, Baren 14 febbraio 2011. L'associazione Comercianti e Residenti Piazza Civiche e il Comitato Plaza di Santa Maria presentano invece Borgate all'Algheveglia e lo sbaracco in prassa civica. Per tutti i weekend fino a Capodanno la piazza si trasformerà in un luogo di incontro dove passare piacevolmente del tempo puntando sulla qualità, tipicità, autenticità in un luogo affascinante dove poter godere di un museo a cielo aperto. Degustazioni agroalimentari e esposizioni dei commercianti a prezzi scontati ma anche una mostra di arti e mobili antiche a cuore del rinomato antiquario Neri Epicureo e una mostra pittorica in piazza dove diversi artisti locali esporrando le proprie opere en plein air. Il curatore in questo caso è il pittore algherese Cici Pace. Ed ecco perché passano le immagini dedicate ai più piccoli. Oggi il villaggio di Babbo Natale si animerà più che mai con la casa di Babbo Natale, tutto e altre tappe infatti compresa Materland e la pista sul ghiaccio che sarà inaugurata alle 17 alla presenza degli Elfi ma anche della principessa Elsa di Anna di Frozen e di Mini e Topolino. Intanto il centro commerciale naturale al centro storico ha organizzato la navetta Polar Express che parte ogni 30 minuti dal parco Materland e dalla torre di Sulis al costo di un euro a famiglia consentendo quindi di lasciare la macchina in piazzale della pace. Prezioso il contributo dell'alternanza scuola lavoro quindi dei ragazzi degli istituti rotte e dell'indirizzo socio sanitario dell'IPIA. Ma sentiamo in merito Mauro e Filomena Ledda dell'Ufficio Politiche Familiari. Sicuramente messi in questa maniera, sistemati vicino a Babbo Natale non è che abbiamo bisogno di molte presentazioni, però siamo venuti a trovare Mauro e Filomena Ledda nella casa di Babbo Natale. Qua è pieno di Elfi, regali, c'è Babbo Natale ovviamente che aspetta tutti i bambini di Alghero. La notizia è che da oggi è aperta tutta la settimana. Cominciamo da Filomena. Sì, sì, allora da questa mattina appunto è aperta la casa tutti i giorni, nei weekend mattina e pomeriggio, mentre durante la settimana tutti i pomeriggi dalle quattro in poi. Ci tengo a precisare che tutto questo villaggio di Babbo Natale non l'abbiamo fatto io e Mauro, ma la cosa bella è che un grande gruppo di associazioni e di giovani hanno collaborato per costruire questo villaggio bellissimo che si estende per tutto il centro storico e quindi la Coralaci, il teatro civico, la LIS che adesso Mauro magari vi dirà meglio, insomma veramente tanta parte della città e quella io credo più generosa, più creativa, ha collaborato a offrire alle famiglie algheresi e non solo algheresi perché sta arrivando gente da tutta la Sardegna, questa atmosfera bellissima. E allora Mauro, cosa proponete? Sì, allora i siti sono praticamente quattro, c'è questo che è stato realizzato da Barbara Lauricella, proprio tutta l'ambientazione con un lavoro di settimane incredibile, poi abbiamo l'Infoelfo qua vicino davanti alla libreria Labyrintho dove ci sarà anche la bigliettazione family, poi abbiamo il teatro civico dove grazie alla collaborazione appunto diceva Filomena delle associazioni e della logistica e accoglienza di teatro per tutti e del teatro d'inverno, abbiamo il laboratorio degli Elfi con un programma fitto tutti i giorni di laboratori per i bambini e poi ci si sposta verso Matterland dove Matterland ci ha dato dei pacchetti famiglia per i giochi sia per i bambini che per i junior e anche la pista di ghiaccio, una bellissima attrazione, oggi 17 inaugurazioni, verranno anche gli Elfi e faremo una bella festa insomma. Allora facciamo salutare tutti i bambini a Babbo Natale, diamo l'appuntamento Quando volete io sono qua, vi aspetto, vi ho cercato per tutta la città, venite, venite E allora bambini raccogliete l'invito di Babbo Natale e intanto parliamo anche di quello che succede questa sera in piazza del Qualtè all'Aperto, una serata musicale di beneficenza denominata Live Algeni, abbiamo parlato con Efiso Ganau dell'Associazione La Prodo Onlus. Ospitiamo questa mattina Efiso Ganau dell'Associazione La Prodo Onlus, un appuntamento importante questa sera per voi organizzato dalla Prodo Onlus, di cosa si tratta? Si tratta di un meraviglioso show di cantanti che con la loro opportunità di fare beneficenza e danno l'opportunità anche a noi di andare avanti. Quindi in questa occasione nel palco del Qualtè verrà realizzata questa bellissima occasione dove aspettiamo tutti, tutte le persone della città che ci hanno sempre assistito, contribuito e collaborato sempre con questa opportunità che si chiama l'Associazione La Prodo Onlus. Tante belle voci da sentire, da ascoltare è un momento magico in prossimità del Natale. Quindi per fare un regalo gradito alla comunità che dire che anche quelli che stanno meno bene di noi possano avere un contributo fattivo e sufficientemente valido per portarsi avanti. Come si partecipa? Si partecipa con dei biglietti che sono stati messi a disposizione in cinque punti vendita dove si fa le prevenite. Ancora ci sono? Sì, sì, ci sono ancora. Ve li leggo un attimo. Quindi è il bar di Via Veneto, il Caffè del Principe, Paolo Zoagli, quindi in prossimità dell'evento, l'edicolo della Petraia e Barmi da Mare. Con questi noi riusciremo forse, o meravigliosamente, a portarci avanti in questa meravigliosa occasione. Allora l'orario? L'orario è alle 19, il biglietto costa 15 euro, non sono tanti. Considerate che per 15 euro sono soltanto 20 pacchi di latte da un litro, oppure sono anche 10 litri di olio di semi, per cui noi lo trasformiamo in questo. Ecco perché diamo una ragione a definirlo come tale. Fausto Beccalossi torna ad esibirsi ad Alghero domani 16 dicembre alle ore 19 allo teatro di Via Manzoni. Beccalossi è considerato uno dei massimi specialisti in campo nazionale a livello internazionale del suo strumento, l'accordion o fisarmonica a bottoni. Il musicista Lombardo conosce bene la Riviera del Corallo perché da più di un decennio collabora con Franca Masu e sarà proprio la cantante algherese con la sua splendida voce, la conduttrice della serata. I due artisti hanno accolto immediatamente l'invito di Ignazio Chessa, fondatore e direttore artistico del prezioso spazio Luteatrì a offrire non solo un concerto ma un vero incontro col pubblico attraverso una breve conversazione che farà conoscere meglio il musicista che poi si esibirà in una suggestiva suite per fisarmonica. Non solo, Masu e Beccalossi poi chiuderanno insieme la serata con una performance a due. La suggestività del suono dell'accordion, la presenza di Franca Masu, l'incontro con la persona che sta dietro l'artista e la magia dello spazio dell'uteatrì fanno di questa pièce uno spettacolo unico e imperdibile. L'evento è organizzato in collaborazione con l'Associazione Ara Musica e a numero chiuso. Per info, costi e prenotazioni si può contattare il 349 80 240 59. Ci fermiamo poi parliamo di sport. Apriamo la nostra pagina sportiva del sabato con il rugby per la settima giornata del girone 3 della Serie A. Domani alle 14.30 l'amatore rugby Alghero terza in classifica sarà di scena sul campo dei Medicei a Firenze. Obiettivo ritrovare la vittoria. L'amatore rugby Alghero è attesa domani dalla trasferta sul campo della Toscana aeroporti i Medicei. Pesapane e i compagni saranno dunque impegnati in una difficile gara a Firenze da dove si spera possano comunque tornare con due punti. Le tre sconfitte di fila maturate con Capitolina, Catania e l'ultima in casa con il Prato richiedono un cambio di rotta e il ritorno ha risultato positivo evitando così che la prima in classifica Capitolina con 27 lunghezze allunghi ulteriormente sulle due inseguitrici che attualmente sono Pesaro con 19 e appunto l'Alguero rugby terzo con 18. Rispetto alla gara di domani come tutte le partite fuori casa si presenta insidiosa anche perché la formazione fiorentina è ultima in classifica con 11 punti, superata nello scorso turno dal Prato vittoriosa Maria Pia. I Medicei vorranno recuperare terreno e soprattutto sfruttare il fattore campo. Di contro troveranno gli algheresi che non avranno intenzioni diverse visto come sono andati i tre turni precedenti. Il fischio d'inizio dell'incontro è fissato per le 14.30, arbitrerà il signor Gabriel Chirnoaga di Roma. Intanto una notizia che riguarda le giovanili impegnate domani in trasferta con l'Accademia Cagliari. A partire dalle 11 scenderanno in campo l'Under 14 a seguire la 16 e la 18 per i vari impegni nei campionati regionali. Passiamo al calcio, undicesima giornata nel gironei di seconda categoria con l'Audax riduce dal pesante KO sul campo del Monte Alma che domani invece ospiterà Santa Maria la Palma e il Padre a pari punti con il bianco-verdi a 14. Trezeliges che invece di punti ne ha 17 che cerca il quinto successo di fila a Villanova-Monteleone contro il Minerva. penultimo della classe. Riposa invece il 1945 Alghero che milita in terza categoria mentre risalendo in prima nel girone di Cielo Olmedo che naviga nei piani alti della classifica a meno due dal primo posto. Domani la squadra allenata da Fabio Pala giocherà sul campo del Biasi. Chiudiamo con il calcio a 5 con le due algheresi in campo oggi. Chi gioca in casa questo fine settimana è la Futsal Alghero alle 16.30 al Palacorbia contro il Sangavino. L'Audax invece sarà di scena ad Uras. Spazio anche al basket. Tc femminile lotta a 2 tra la capolista Virtuscaglia e la Mercedes Alghero con quest'ultima che giocherà stasera alle 19 al Palacorbia contro il San Salvatore che ha 10 punti in meno, 8 contro i 18 delle bianco-azzurre. Coral invece in campo domani sempre al Palacorbia alle 19 contro l'Oratorio Elmas per un match d'alta classifica. La squadra di coach briscese attualmente al secondo posto in Serie D assieme a Dinamo 2000 e Sinnai se la vedrà con la capolista che si inore alle 20 tutte. Nonostante qualche defezione gli algheresi proveranno a fare lo sgabbetto alla prima della classe. E la palla a spicchi chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio al meteo, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci. Grazie.